Nel primo pomeriggio arriviamo alla bezzia di San Leonardo, a pochi chilometri da Asiponto. Arriviamo davanti alla facciata nord. È percorsa da archetti ciechi e le esene ed è caratterizzata del bellissimo portale. Leoni stilofori che abbrancano due prede sorreggono il protiro, aggiunta successiva del XIII secolo. La dimostrazione è che il protiro, la parte sporgente del portale, va a sovrapporsi agli archetti ciechi della facciata. Al di sopra ci sono le figure di San Leonardo e forse San Giacomo. Nella lunetta Cristo giudice, nella mandola di luce, è sostenuta da due angeli. Nella prima ghiera ci sono i simboli dei quattro evangelisti. E le sculture del portale sono della fine del XII secolo. Ed eccoci ai capitelli che si interpongono tra le colonne e l'architrave. A sinistra, sulla facciata interna, San Michele che sconfigge il drago. Sulla facciata esterna, l'angelo mandato da Dio ferma il profeta Balaam, ingroppa la sua asinella. Nel capitello di destra, nella facciata interna, è la natività. All'esterno, l'arrivo dei magi. Li guida la stella, portano i loro doni, vestono ricchi abidi drappeggiati. Sui piedi, a sinistra, dalla bocca di un drago che sta per essere affrontato da San Michele, fuoriesce il calcio abitato. Una raffigurazione frequente nei portali romanici. Nel frigio sono raffigurati uomini ed animali fantastici e non. Questi rilievi vengono attribuiti alla scuola abruzzese e risentono di influssi francesi. Nello stipite control laterale, il calcio abitato fuoriesce da un leone con due corpi ed una sola testa. Le resene suddividono la facciata in cinque parti. La centrale occupa da dal portale, le altre da monofore. Ecco le absidi della facciata orientale, ugualmente percorsa da archetti pensili. Una monofora si apre su quella centrale. Le mensole del tetto sono decorate con volti umani. Sopra il finestrone è la statua di Sansone che atterra il leone. Da notare, il foro in alto si entra dal portale della facciata ovest, un semplicissimo portale. È tempo di entrare. L'interno è suddiviso in tre navate che si concludono con tre absidi. La navata centrale è sormontata da due cupole. Uscendo si nota la mancata simmetria della facciata. In epoca successiva, i teotonici hanno costruito un nuovo edificio appoggiandola sul lato destro. Della chiesa si sa che esisteva già nel XII secolo ed era annessa ad un convento agostiniano. Era una meta obbligata per i pellegrini diretti a San Michele al Gargano e a Bari per portarsi verso la Terra Santa. Grazie. 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 Grazie.